Maria Lucia Revisore Revisore Sono qui oggi per parlarvi di intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale cambierà il modo in cui lavoriamo e il modo stesso in cui percepiamo il lavoro Prima di tutto, cos'è l'intelligenza artificiale? Ne abbiamo tantissimi esempi nella cultura pop e nei film, nei media è interessante vedere come nei film spesso ha esiti tragici e sono intelligenze molto simili a quella umana in grado di interagire con noi e di risolvere tantissimi problemi differenti è così il livello di intelligenza artificiale che abbiamo oggi? No! Sviluppiamo tantissimi livelli di intelligenza artificiale diversi per problemi diversi e un'intelligenza artificiale non è in grado di comportarsi come un essere umano c'è un test interessantissimo sviluppato da uno dei più grandi matematici del ventesimo secolo Alan Turing in cui un giudice viene messo in contatto testuale quindi tramite una chat con un essere umano e un computer che pretende di essere umano se il giudice non riesce a distinguere efficacemente quale dei due è l'essere umano abbiamo passato il test abbiamo una macchina pensante abbiamo un'intelligenza artificiale forte è interessantissimo il film sulla sua vita che hanno fatto un paio di anni fa l'Imitation Game invito tutti a vederlo ma quindi l'applichiamo tecniche differenti quindi algoritmi differenti allenati su istanze differenti a problemi differenti e questi problemi vanno dai più disparati da fini malefici atti a distrarci dal nostro lavoro atti a farci perdere tempo e soldi che sfortunatamente hanno un grandissimo successo con me come le pubblicità personalizzate online le pubblicità personalizzate online quei pop-up che vedete apparire ogni giorno navigando sono sviluppate sono scelte appositamente per voi da algoritmi che vi profilano che quindi raccolgono tutte le vostre interazioni online tutti i vostri acquisti per creare un profilo dei vostri gusti dei vostri desideri però in realtà hanno anche fini nobili come per esempio la diagnosi medica sono dietro tantissimi algoritmi che analizzano per esempio le vostre scansioni x-ray sono presenti in tutti i vostri telefoni riconoscimento facciale riconoscimento vocale e per esempio negli aerei pilotano gli aerei la maggior parte del tempo di volo un aereo è pilotato da un computer e non dal pilota il pilota ne ha il controllo solo per più o meno 7-8 minuti ogni volo io nello specifico lavoro nell'applicazione di queste tecniche nell'industria quindi utilizziamo queste tecniche per migliorare la produzione industriale in caso specifico è un problema chiamato car painting le macchine vengono verniciate da questi robot passano attraverso i robot le verniciano automaticamente e successivamente passano all'assemblaggio per passare dalla produzione di una macchina rossa a una gialla devo prima pulire completamente il robot caricare il nuovo colore e iniziare la produzione il cambio tra due colori dipende in tempo di durata e operazioni da fare da quali sono questi due colori per esempio è molto più semplice passare da una produzione di rosso a una produzione di arancione il nostro obiettivo è diminuire il numero totale di riconfigurazioni del robot quindi di cambi colore e cercare di fare solo quelli più veloci perché? per tre punti principali il primo è che ogni riconfigurazione è uno spreco in termini economici ed ecologici di acqua componenti chimici per pulire il robot e di tutto il colore presente nel robot il secondo è che è uno spreco di produzione è solo un costo per l'azienda un robot che sta venendo riconfigurato non sta producendo niente che posso vendere mantenendo l'esempio dell'aereo un aereo che non sta volando non sta producendo nessun utile per la compagnia inoltre è la parte della produzione che richiede la maggior parte di manodopera quindi diminuendo il numero totale di riconfigurazioni e diminuendo la loro durata diminuisco l'apporto umano alla produzione quindi aumento la produttività oraria dei singoli dipendenti questo è uno dei tantissimi esempi in cui l'intelligenza artificiale sta venendo e sta cambiando il modo in cui produciamo e contribuisce a aumentare la nostra singola produttività in una singola fabbrica è molto semplice gestire un singolo robot se devo gestire decine di robot che lavorano in centinaia di macchine di decine di colori differenti è praticamente impossibile per un essere umano possiamo avere solo soluzioni approssimative in cui non riesco a raggiungere il risparmio massimo di risorse in cui vado sempre a sprecare quindi componenti chimici, acqua e lavoro perché un computer riesce a fare decisioni migliori delle nostre in questa situazione perché riesce a raccogliere più informazioni quindi riesce ad avere accesso ai dati di vendita riesce ad avere accesso a tutto lo status attuale dei robot, la loro configurazione e riesce a tenere in considerazione tutte le informazioni dei prodotti inoltre ha una maggiore potenza computazionale riesce a valutare tutti i possibili scenari che nel caso di una fabbrica di un esempio come il precedente sono negli ordini dei miliardi quindi impossibili per un essere umano e riesce a elaborare tutte le informazioni che abbiamo visto in precedenza e infine ha obiettivo per esempio un manager che ha un'auto rossa o che predilige le macchine rosse inconsciamente favorirà la produzione di auto rosse come stavo dicendo questo è uno dei tantissimi esempi in cui l'intelligenza artificiale sta rimpiazzando del lavoro sta togliendo dei lavori molto semplici e manuali e rimpiazzandoli con per lasciare il posto a lavori di più alto livello tecnologico molti ricerche hanno cercato di valutare l'apporto di questa rivoluzione tecnologica una delle più interessanti è stata resa disponibile grazie al sito web will robots take my job in cui ognuno di voi può inserire la propria professione e avrà come risultato la probabilità di venire rimpiazzati da robot e intelligenza artificiale con le tecnologie al momento esistenti quindi preoccupatevi per la pensione e vi consiglio dopo di fare una ricerca non adesso ma il ridurre il numero di posti di lavoro necessari per produrre lo stesso quantitativo di risorse è un filo comune di tutte le rivoluzioni industriali e ne abbiamo tantissimi esempi questo chi sa dirmi cos'è questo? bravi è una seminatrice è un prodotto montebellunese viene prodotto a più o meno 2 km da la casa della mia famiglia questa fino a 50 anni fa non esisteva prima il lavoro di semina veniva effettuato dalle mondine Aldo Giovanni e Giacomo torna sempre in tutte le presentazioni e quindi ha rimpiazzato tantissimi lavori però non ci troviamo con un grosso problema disoccupazione al giorno d'oggi com'è possibile? semplice questa è la prima teoria da adesso in poi ci saranno solo teorie sono due possibili scenari di cosa accadrà da oggi nei prossimi vent'anni e la prima è la storia si ripete reagiremo a questa perdita questa amoragia di posti di lavoro come abbiamo reagito a tutte le precedenti rivoluzioni industriali quindi creando le nuove tecnologie eliminano posti di lavoro ma ne creeranno altrettanti la seconda è che il cambiamento sarà troppo drastico e troppo rapido per lasciare il mercato riorganizzarsi autonomamente e quindi dovremo intervenire dal punto di vista legislativo nella prima si sostiene che la creazione di nuovi posti di lavoro grazie per esempio alla robotica all'intelligenza artificiale rimpiazzerà completamente i precedenti assieme a un incremento dei bisogni 50 anni fa noi avevamo bisogno di telefonini computer tutto il settore informatico dell'azienda è stato creato negli ultimi 40 anni il settore della comunicazione web di social media sono tutti lavori che siamo riusciti a creare perché queste persone non dovevano più lavorare nei campi quindi sono lavori più tecnici in cui l'essere umano riesce a dare un apporto molto più importante rispetto a un puro lavoro manuale un esempio chiaro sono gli youtubers un lavoro che fino a qualche anno fa nessuno poteva pensare la seconda teoria è che il cambiamento sarà troppo veloce per lasciare il mercato riorganizzarsi autonomamente e quindi dovremo intervenire dal punto di vista legislativo riusciamo a produrre lo stesso quantitativo di risorse quindi lo stesso benessere utilizzando meno persone meno lavoro meno persone devono lavorare o le persone devono lavorare di meno quindi abbiamo gli esperimenti come nei paesi nordici della riduzione dell'orario lavorativo dalle 6 alle 8 ore o idee proposte di redditi unici incondizionati in questo caso si passerebbe completamente a una nuova idea di lavoro in cui io non lavoro più per il sostentamento lavoro per scelta lavoro per migliorare il mio status sociale ci sono stati dei precedenti simili nella prima rivoluzione industriale quando quell'aumento di produzione ha portato a una serie di nuovi diritti umani come la riduzione come l'abolizione del lavoro minorile chi conosce quest'uomo mani alzate ok questo è uno degli uomini più ricchi al mondo il fondatore della Microsoft Bill Gates come finanziare tutte queste proposte lui ha avuto un'interia molto interessante che vi lascio come spunto di discussione in cui sostiene dovremmo tassare ogni tecnologia che rimpiazza un singolo posto di lavoro tanto quanto quel posto di lavoro se un'intelligenza artificiale guida il camion nel posto del camionista devo tassare quella intelligenza tanto quanto un camionista se un singolo computer rimpiazza un intero call center pagherà le tasse tanto quanto un call center per finanziare i sistemi sociali che abbiamo visto in precedenza quindi per finire un attimo fare previsioni è facile anche senza utilizzare l'intelligenza del gregge del gregge fare predizioni azzeccate è molto complesso quindi nessuno sa realmente cosa succederà nei prossimi vent'anni queste sono teorie però sicuramente succederà qualcosa e sicuramente dovremmo riadattarci in un modo o nell'altro o creando nuovi bisogni o gestendo diversamente il lavoro auguro a tutti noi di vivere a lungo per vederlo quindi grazie 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 grazie